Piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma penso che ho deciso che io diserterò. Ho avuto tanti guai da quando sono nato, e i figli che ho allevato, ha un pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà, ormai sono sotto terra, e a loro della guerra non gliene prega più. Quando ero in prigionia, qualcuno mi ha rubato, mia moglie e mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò, e chiuderò la porta, su una stagione morta, e mi incandinerò. Ti farò con dignità, dicendo alla gente, c'è chi muore innocente, e a tutti griderò. Di non partire più, e di non obbedire, per andare a morire, senza sapere perché. Per cui se servirà, che in sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà. E dica pure i suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.